Buonasera e benvenuti a Omnibus Notte. Questa sera hanno giurato anche i 40 fra sottosegretari e viceministri, quindi finalmente la compagine governativa si può dire conclusa. Il Presidente del Consiglio salutando i neo sottosegretari ha detto che siamo tutti parte di una squadra, basta con gli interessi di parte, il nostro unico interesse dovrà essere quello del Paese. Troppo tempo è stato perduto, la missione che ci attende non è facile, ma dobbiamo metterci al lavoro perché il nostro successo sarà quello dell'Italia. Serve sobrietà nelle parole e nella nostra attività. Insomma un appello alla coesione, a stare tutti uniti, ma se voi guardate il titolo che noi abbiamo deciso di dare questa sera alla nostra puntata di coesione e di unità oggi, almeno dal punto di vista politico, se ne è vista ben poca. Mugugni, minacce e malori, così l'abbiamo intitolata, il venerdì nero della politica. Perché? Perché ci sono state tantissime polemiche legate alla nascente, ma ancora non si sa neanche davvero in che forme, convenzione per le riforme. E poi ci sono state politiche legate alla denuncia fatta dal Presidente della Camera Laura Boldrini sulla violenza che gira sulla rete, sul web, sulla possibilità o meno di fare leggi apposite. E ancora polemiche all'interno dei vari partiti. Il PD, lo sapete, ha rimandato l'Assemblea nazionale, era fissata per domani, invece si terrà il prossimo 11 di maggio per decidere se nominare un reggente per il partito oppure disegnare direttamente un segretario che però poi lo traghetti fino al congresso che si terrà ad ottobre. Su tutto questo pesano comunque ancora sempre i problemi economici. Perché oggi l'Europa ha dato le pagelle, diciamo così, anticipando le proiezioni della situazione economica. E se le valutazioni europee sono leggermente più positive per quello che riguarda l'Italia rispetto ai dati forniti ieri dall'Ox, beh questo non significa che siamo messi bene. Anzi, l'unico dato positivo è che noi riusciamo a mantenere l'impegno di essere sotto la soglia del 3% nel rapporto deficit-pill. Anzi, per essere proprio sinceri, siamo al 2,9%. Mentre invece, per tutto il resto, produzione, disoccupazione, i dati sono davvero molto preoccupanti. Però che cosa è successo oggi? È successo che la Francia e l'Olanda hanno invece ottenuto la possibilità dall'Europa di una sorta di dilazione. Cioè loro non ci sono a questo 3%, sono abbastanza lontani anche a dir la verità. Però loro si possono permettere un paio d'anni di respiro. Noi no, anzi noi siamo ancora appesi al scioglimento della procedura che riguarda il deficit eccessivo e che dovrebbe essere decisa il prossimo 29 di maggio. Allora è da qui che noi partiamo. Partiamo da qui e ne parliamo, intanto vi presento gli ospiti di questa sera con i quali appunto svilupperemo le varie polemiche che si sono tenute nella giornata. Ma con Tobias Piller della Frankefurter Algemeine Zeitung, buonasera e benvenuto, ovviamente ci occuperemo di Germania e non solo. Saluto anche l'onorevole Elena Centemero del Popolo della Libertà, buonasera e benvenuta, e l'onorevole Bruno Molea di Scelta Civica con Monti, buonasera. Mentre invece collegata con noi da Montebelluna in provincia di Treviso, saluto e ringrazio perché non stava molto bene ma è voluta comunque rimanere con noi e non ha mancato il suo impegno la senatrice Laura Puppato del Partito Democratico. Buonasera Puppato. Buonasera a tutti. Allora Piller, partiamo appunto dalla questione tedesca. Innanzitutto io vorrei capire da lei se questo viaggio di Enrico Letta con questa prima tappa fatta da Angela Merkel, vorrei capire vista dalla parte tedesca, perché i giudizi in Italia non sono stati particolarmente entusiasti, nel senso che ci siamo resi conto che l'accoglienza sì è stata cordiale, però non è che proprio Angela Merkel abbia detto fate quello che volete, nessuno se lo aspettava, ma insomma magari è così o abbiamo frainteso la nostra solita capacità di... Sì ma Angela Merkel ha accolto bene mi sembra Enrico Letta, e chi dice di conoscere un po' meglio Angela Merkel dice anche era vera gioia e non solo la maschera col sorriso. Ah ecco. Questo... Lo capiamo dal colore della giacca, cioè da che cosa si... Perché... Questo mi sono fatto far riferire, ma poi dall'altro lato certamente non mi aspetterei che adesso la Germania dice Italia fate come volete, tanto non sta neanche tanto la Germania a dire questo, perché il problema dell'Italia non è le pagelle un po' politiche, un po' diplomatiche della Commissione europea, il problema è l'Italia deve stare sul mercato finanziario, all'omento ci sta molto bene, lo spread sta scendendo, ma come mi sono fatto spiegare da New York due giorni fa da un analista strategista proprio di questione di interessi, il problema lì è se il debito italiano va molto oltre il 130% e quest'anno ci saremo oltre il 130%, se va verso il 140% qualcuno sul mercato finanziario così griderà allarme a un certo punto e a quel punto siamo di nuovo nel circolo vizioso e non su quello virtuoso. In questo l'Italia ha il problema del debito non imposto dalla Germania, l'ha imposto dai mercati. Certamente l'Italia ha chiesto a tutti gli altri partner europei, insieme ad altri, di inventare una serie di meccanismi, per esempio Monti ha insistito su questo meccanismo che taglia i tassi di interessi e sono stati inseriti tutti questi meccanismi di salvataggio, questi fondi di salvataggio che si sono creati, dove l'Italia non ha preso soldi finora, ma dà un po' di calma ai mercati, è una forma di garanzia e in controparte l'Italia ha dovuto dare delle promesse, una delle promesse era il deficit zero nel 2013, siamo adesso al 3%, e uno può anche dire quanto valgono le promesse, poi tutto può essere visto in modo pragmatico, poi in quel senso non vedo che si può adesso dire spendiamo e poi così spingiamo l'economia, forse dopo... No certo, però per esempio noi che siamo sempre un po' dietrologi e maliziosi, abbiamo anche subito detto ma tanto la Germania è in campagna elettorale, è per questo che Angela Merkel comunque non fa alcun tipo di concessione, è per questo che si mostra anche più rigida, perché deve in realtà rendere conto al proprio elettorato, è davvero così? C'è anche questo elemento oppure no? Se si leggesse così i commenti dei lettori in internet sui miei elettorali, picchiano sui miei commenti troppo morbidi con l'Italia e su Angela Merkel troppo morbida, così... Cioè i suoi elettori tedeschi le dicono che lei è troppo morbido? Troppo morbido, perché dicono tanto non hanno mantenuto le promesse, finirà così con l'unione monetaria italiana, non europea, italiana, così tipo avremo tutti la lira. Questa è la paura dei tedeschi. E in questo senso bisogna adesso fare qualcosa per togliergli questa paura e in quel senso Angela Merkel farà qualcosa di accomodare l'età in modo pragmatico, ma non dargli un assegno in bianco, questo non me l'aspetterei. Poi la questione è sempre, ma cosa serve all'Italia adesso? Se guardiamo meglio la Ocse che ha pubblicato il rapporto ieri, se si toglie lì un po' il velo diplomatico è stato abbastanza devastante. C'è scritto che l'unico paese in tutta l'Ocse che dal 2000 al 2011 ha ridotto il reddito per capite annuale è stato l'Italia. Così è stato il fanalino della coda. Ma questa statistica va solo nel 2011 e dopo c'è ancora il botto del 2012. Così starebbe ancora peggio questa statistica se si guardasse 12 anni invece di 11. E l'Ocse dice che non si può in questa situazione di debito alto dire adesso spendiamo un po' lì a destra e a sinistra. E la mia idea poi, per farlo breve, come economista è che i politici o giuristi dicono sempre bianco e nero. Economisti dicono più in senso di un circolo virtuoso o vizioso. Così se si comincia con riforme, si ha un po' di crescita in più, si ha un po' di soldi in più, si può dare qualche soldo all'economia e si può creare un circolo virtuoso. Perché? Innestare insomma un meccanismo. C'è un'alternativa all'austerità che si chiama riforme. Allora, la fermo perché è evidente che appunto invece a questo punto noi dobbiamo prendere, cioè il governo dovrà prendere una decisione, la maggioranza che l'appoggia dovrà prendere una decisione perché ci sono delle priorità, lo stop all'Imu, il rifinanziamento della Cassa Integrazione Inderoga, il blocco dell'IVA solo per parlare delle cose più recenti. Comincio da Puppato, che non voglio lasciare da sola a Montebelluna. Questa è la situazione che ci è stata illustrata e insomma direi abbastanza verosimile. Oggi la temperatura delle polemiche sull'Imu si è leggermente abbassata a favore, diciamo così, di quelle sulla Convenzione, ma non è che l'argomento sia tramontato. Secondo lei come finisce? Beh, vorrei proprio rilasciarmi a quanto diceva ora il corrispondente della Frankfurt-Algemein Zeitung per dire che c'è un sistema solo per riuscire a far ripartire l'Italia. Lui giustamente lo definisce così, riforme, no? Sono vent'anni che parliamo di riforme, però le riforme camminano sulle gambe e sulle idee e sul lavoro di chi governa. Ora, una delle riforme importanti, vorrei dire straordinariamente importanti per le nostre imprese, sono quelle che riguardano la semplificazione pubblica, cioè la sburocratizzazione, la dematerializzazione, l'innovazione e quindi questa capacità che noi dobbiamo avere, perché non abbiamo più tempo, di riuscire a portarci quantomeno ai livelli della media europea, degli altri paesi europei, rispetto a questa tematica. Ebbè, abbiamo oggi un nuovo sottosegretario a questo alluopo dedicato nella funzione pubblica, nella semplificazione, che si chiama Gianfranco Miciche. Allora, io spero che non stiamo scherzando, nel senso che dobbiamo avere la certezza che le indicazioni politiche ci portino sulla buona strada, perché altrimenti rischiamo davvero di deflagrare a oggi. Il rischio è reale per l'Italia, no? Perché è pur vero che noi stiamo sotto il 3% di deficit PIL, ma siamo, ahi noi, il paese, con la maggiore percentuale di debito pubblico, no? 130% ormai, e questo debito risente fortemente del PIL, cioè del prodotto interno lordo. Per cui, siccome lo stiamo diminuendo, questo è il fattore negativo che accelera la nostra crisi, la nostra difficoltà, se noi non riusciamo a diventare competitivi, questa è davvero la prima questione da mettere sul tavolo, noi purtroppo rischiamo di ridurre ulteriormente la nostra produzione e con ciò inevitabilmente aumentare il nostro debito, a prescindere dal buon Draghi, a cui dobbiamo tutto, perché, voglio ricordarlo, insomma è straordinario ed è la prima volta che accade che si finanzi il denaro con lo 0,5%. Esatto, continuando a tagliare i tasi. Anche questo dovrebbe dire qualcosa al Governo nazionale, perché credo che un invito vada speso alle banche di tutta Italia per verificare che finalmente questo si traduca in una riduzione del debito, appunto, e quindi del fattore economico a disposizione per cittadini e imprese e questo a sua volta produca anche un aumento della disponibilità di denaro liquido, perché molte aziende stanno morendo anche di crediti granci. non senta Bumpato, ma quando lei ha accennato a Miciche, voleva rintendere che non lo ritiene adeguato, in grado di svolgere il compito che dovrà svolgere, oppure no? No, la sua storia non depone a suo favore, però è vero che la delega che ha oggi è una delega importante e allora io voglio credere che a fronte di un ministro, insomma, che è sicuramente una persona di grande lavoro, insomma, di grande capacità di lavoro, vi sia anche un rafforzamento di queste linee perché sono linee fondamentali, voglio dire, non stiamo parlando di l'Anna Caprina. No, stiamo parlando della sopravvivenza del nostro paese. Stiamo parlando di coloro che dovrebbero guidare un indirizzo politico in direzione accelerata e determinata verso riforme, tra l'altro, di per sé non costosissime, ma che necessitano di un grande lavoro e di una grande volontà. Centemaro. Innanzitutto saluto la senatrice Puppato che vedo per la prima volta e mi felicito del fatto che una donna abbia potuto intraprendere nel corso appunto prima delle elezioni politiche la campagna per le primarie e quindi questo del suo partito e questo è una cosa molto importante all'interno di quella che è la presenza femminile nel mondo della politica. Pur appartenendo a parti politiche appunto diverse condivido parte di quello che la senatrice ha detto perché quando noi parliamo della necessità di riforma noi veniamo da un anno di governo Monti in cui sono state fatte delle riforme estremamente dolorose richieste dall'Unione Europea riforme come quelle appunto che riguardano le pensioni o il mercato del lavoro soprattutto il mercato del lavoro che già Enrico Letta e il Presidente Letta hanno detto che andranno riviste però giustamente ricorda che le riforme camminano sulle gambe delle persone e con la testa delle persone quindi è estremamente importante il fatto che ci siano delle persone che abbiano competenze adeguate nei posti nei posti chiave e quindi Miciche? Ma io non mi riferisco non faccio ci sono una serie di nomi che parlano da sé all'interno dei sottosegretariati non commento credo proprio che però quando il Presidente Letta nel suo discorso che io ho apprezzato molto parlava di autorevolezza e io non parlo in casa di altri partiti parlo nella Casa del Popolo della Libertà che conosco bene quando si parlava lei avrebbe visto qualcun altro quando si parlava di autorevolezza penso che perché sappiamo che appunto una delle polemiche di oggi è stata legata anche alle nomine dei sottosegretari io penso che ci siano tanti nomi e cognomi che parlino da sé e che gli italiani sapranno giudicare in base alle proprie competenze se vede io mi occupo di istruzione e come occupandomi di istruzione di cultura e di università non posso fare l'economista e quindi avere un economista una persona che si occupa di bilancio che si occupa di istruzione credo che non sia un esempio di competenza Mulea qual è il suo giudizio? io voglio provare a ripartire un attimo dall'inizio dicendo che secondo me il carico di lavoro che si è preso Letta è sicuramente un carico importante gravoso anche io ho apprezzato molto il discorso che ha fatto il presidente Letta mentre lo faceva fra l'altro cercavo anche di capire evidentemente attraverso le sue parole come intendeva poi ricollocare finanze spostamenti e ogni quant'altro perché con grande onestà condivisibilissimo tutto quello che ha detto però poi ecco tradotto in termini pratici questo comporta sicuramente un'attenzione poi a quella linea di rigore che lui stesso ha richiamato e che fa parte anche del governo Monti quella linea di rigore che se vogliamo oggi ci permette di essere al 2,9 e non al 3% perché poi anche quegli effetti hanno contribuito a far sì che non si sia splafonato il 3% e conseguenzialmente a queste cose io mi trovo concorde sia con la senatrice ma anche con la collega del PDL probabilmente ai sottosegretariati andavano assegnate persone che quantomeno professionalmente avessero come dire le competenze e le esperienze necessarie perché questa linea di rigore potesse essere garantita anche ai livelli periferici della politica e non soltanto dai vertici questo è il mio pensiero voi di scelta civica avevate avanzato candidature anche insomma abbastanza sì ma guardi noi non abbiamo mai fatto una questione di posti voglio dire abbiamo sempre fatto una questione di effetti di capacità di produrre effetti e questo Letta ci ha chiesto ha chiesto a tutti lo ha chiesto il Presidente Napolitano lo ha chiesto il Presidente Letta nel suo lungo discorso e ci ha ricordato a tutti la gravità della situazione anche se credo non ce ne fosse bisogno perché è chiaro a tutti quanti e ci ha soprattutto detto che questo è un governo che deve necessariamente dare segnali al Paese perché il Paese nelle condizioni in cui è non può continuare ad andare avanti così ma non può prescindere da quella linea di rigore che ha permesso ripeto di stare sotto il 3% e che dovrà permettere di continuare in quella direzione perché oggi poi è anche vero che come diceva Centemero in realtà poi comunque le idee viaggiano sulle gambe delle persone degli uomini ma per questo le dicevo probabilmente ci voleva più accuratezza nella scelta e sempre questa questione si lega all'altra polemica che invece oggi si è infuocata nuovamente sulla convenzione per le riforme che è qualche cosa che appunto ancora non esiste non è stata nemmeno definita non si sa neanche esattamente come funzionerà nel senso che si sta ancora discutendo anche di quello ma la polemica oggi violentissima c'è stata perché qualche giorno fa Berlusconi si era diciamo così autocandidato a presiederla già erano uscite insomma pareri non particolarmente entusiasti oggi forse il perché si è pronunciato un esponente di rilievo come Matteo Renzi e un altro come Fassina sempre del PD che hanno detto che non trovavano appropriata appropriato dare la presidenza Berlusconi il PDL compatto come un solo uomo ha fatto quadrato ed è divampata la polemica ma io le dico che non è vero che non abbiamo un esempio autorevole e molto importante di convenzione costituzionale noi abbiamo l'esempio più importante che fu l'assemblea costituente che nel 1946 tra il 46 e il 48 scrisse la nostra straordinaria costituzione che è proprio l'argomento usato da chi ha voluto fare cioè da Renzi ha detto non possiamo lasciare Berlusconi l'onere di scrivere i prossimi 50 anni della nostra costituzione quindi ma c'è stata una polemica molto complessa sono intervenuta anch'io rispetto a quello che era l'uscita di Violante del presidente Violante nel quale appunto si diceva che questa convenzione non doveva essere composta da parlamentari ma da membri esterni ecco mi sembrano degli argomenti di lana caprina io credo che siamo di fronte ad una grandissima responsabilità che è quello di andare a toccare e a riformare una parte della costituzione non i principi fondamentali che sono ancora valide e determinanti per la nostra nazione e che tutti dovrebbero conoscere ma andiamo a toccare andremo a toccare quella che è la struttura istituzionale dall'abolizione delle province a quello che è la funzionamento dello Stato a quello che potrebbe essere un semipresidenzialismo e la riforma del titolo quinto della costituzione quindi dei punti veramente nodali per questo mi sembra che parlare di posti in questo momento mi sembra far tornare indietro la politica cioè parlare di politica e non di politiche allora siamo di fronte a una responsabilità molto grande quindi ha sbagliato anche Berlusconi ad autocandidarsi ma ognuno penso che qua tutti si propongano a qualche cosa abbiamo visto in questi giorni veramente abbiamo assistito a delle persone che si sono candidate a tutto dalla presidenza del Consiglio al Presidente della Repubblica a sottosegretario a quant'altro ecco questo credo che sia l'esempio che la politica e i politici non devono dare noi dobbiamo cambiare profondamente e tutta questa discussione di oggi secondo me non prende in considerazione quello che è il vero problema l'impegno che dobbiamo avere per riformare insieme la nostra Costituzione nel 1946 cosa si fece? si scelsero 70 parlamentari eletti alla Costituente si divise la Costituente di allora in tre commissioni io sono una cultrice di Nilde Jotti ho studiato e ho letto quello che furono i suoi interventi all'Assemblea Costituente quando poi introdusse quello che fu la parte relativa alla famiglia quindi anche l'equiparazione dell'uomo e della donna dei coniugi all'interno della famiglia che fu un passaggio importantissimo per la nostra storia costituzionale la storia del nostro paese e quindi si potrebbe ripetere l'esempio che fu allora senza bisogno di personaggi esterni e poi si può eleggere come fu allora ci furono due presidenti della Costituente che si alternarono si può eleggere tranquillamente quindi ha trovato la soluzione con due presidenti Puppato perché Berlusconi non dovrebbe essere il presidente di questa convenzione per le riforme per due ragioni la prima è perché c'è un articolo della Costituzione il 138 che ci indica esattamente perché i padri costituenti gli unici perché non possono esserci di nuovi padri costituenti noi possiamo al massimo come diceva giustamente Centenero avere l'ambizione se siamo bravi bravi e molto onesti e capaci di fare le cose per bene di poter modificare quel titolo quinto della Costituzione e poco altro che riguarda l'assetto istituzionale del Paese ma non possiamo pensare di diventare padri di un'altra Costituzione l'articolo 138 della nostra bellissima Costituzione quella che tutto il mondo ci invidia e che Roberto Benigni è così ben rappresentato anche dal punto di vista teatrale ecco quella lì ci dice che è già previsto che si possa modificare lo si fa nei modi in cui è riportato l'articolo 138 cioè deve passare questa riforma nei due rami del Parlamento deve poi diciamo giacere per tre mesi quindi avere almeno diciamo una sospensione di tre mesi e a quel punto ritornare per l'approvazione definitiva questo per una ragione molto semplice perché il Parlamento è l'unica realtà depositaria della possibilità di modificare la Costituzione primo secondo deve farlo con tanta accuratezza con tanta diciamo capacità di non errare insomma di non sbagliare di procedere appunto in modo assolutamente ragionato comprensibile anche dal popolo italiano tanto è vero che è persino previsto il referendum nell'ipotesi che più di 500 mila abitanti ritengono per esempio che si stia forzando in modo innaturale la Costituzione quindi vi sono scritte tutte le modalità con le quali si deve procedere e le ragioni per cui i padri costituenti hanno inteso darci questo strumento per cambiare quella Costituzione quindi noi dobbiamo semplicemente bravi alunni di quei bravi maestri cioè lei dice non ci dobbiamo inventare nient'altro questo è il senso no perché invece oggi le polemiche erano molto più legate a noi abbiamo la presidenza del Consiglio allora voi ci dovete dare la presidenza della Convenzione però no perché c'è già Quagliarello Ministro per le Riforme allora insomma cosa pensano gli elettori cosa pensano i cittadini italiani rispetto a queste proposte sì ma sono i vostri colleghi non è che l'abbiamo fatta noi queste polemiche francamente io credo io credo che no ma appunto io credo che questa sia la strada peggiore per andare avanti no anche perché faccio notare una cosa che in qualche modo Molea me lo conferma visto che diceva che ha ascoltato con molta attenzione il discorso di Letta il Presidente del Consiglio ha legato di fatto il successo del suo governo al successo delle riforme certo quindi ma le riforme non devono identificarsi in una persona io concordo quanto diceva la collega prima quanto diceva la senatrice stiamo parlando di una cosa talmente importante talmente di ampio respiro rispetto rispetto alla politica dell'aula voglio dire che non può essere ricondotta una persona ma le riforme vanno fatte in maniera ampiamente condivisa devono essere veramente patrimonio di tutti sia dell'opposizione che della maggioranza i due rami del Parlamento devono condividere in maniera ampia quello che saranno le riforme e quindi individuare comunque un qualcuno che è il referente o il padre visto che lei lo ha chiamato così delle riforme che faranno parte del pacchetto di questo governo in questi 18 mesi mi sembra anche riduttivo non voglio togliere niente il presidente Berlusconi che è una gran persona però dice sarebbe un po' un impaccio dobbiamo dare la pubblicità fra un minuto però io vorrei prima di arrivare in pubblicità chiedere a Piller se tutto questo lavorio per esempio come viene giudicato all'estero in particolare dalla Germania che comunque che se ne dica per noi rimane il giudizio della Germania conta moltissimo in Europa perché Angela Merkel ha visto già tre presidenti del consiglio nel giro di praticamente due anni la stabilità politica conta immagino il punto è che in Germania non si capisce molto della politica italiana ma anche non si vuole capire tanto si vuole vedere un movimento ma vorrei anche dire che anche Draghi quando ha riferito a tutti i capi di Stato sei settimane fa si trova sull'internet al sito del BCE su interventi di Draghi ci sono i slide che ha fatto Draghi per i capi di Stato ha detto uno degli elementi più importanti è fiducia confidence fiducia credito e competitività di spese dello Stato non c'era niente comunque per la fiducia bisogna adesso tracciare una linea che va verso il futuro e che fa vedere ai italiani che qualcosa comincia a muoversi altrimenti si cominciano tutti a bisticciare come finora non si crea fiducia e poi in quel senso anche non si crea neanche voglia di imprenditori investire delle banche dare credito perché è tutto legato a questo e vorrei mettere anche un ultimo punto su questo perché sono qua tre parti della coalizione ma bisogna pensare che loro hanno una spina nel fianco che si chiama grillo così se loro adesso in trasmissione oggi no ma in altre occasioni cominciano a bisticciare come hanno fatto finora si perde l'occasione ma anche si perde tutto il terreno a grillo così adesso non hanno altro scelta a correre più velociamente perché la spina nel fianco sta lì quindi in qualche modo aiuta pubblicità ci ritroviamo fra pochissimo riprendiamo la nostra discussione nel frattempo durante la pausa pubblicitaria Tobia Spiller della Franchefurter al Gameine Zeitung ci diceva a proposito che stavamo chiacchierando delle future elezioni che ci saranno appunto in Germania a settembre ci diceva che comunque se anche non dovesse esserci più Angela Merkel non è che le cose cambierebbero più di tanto è inutile che ci facciamo insomma quella è la situazione quella è la linea e il rigore comunque è sposato da tutta la Germania noi dobbiamo solo sperare perché oggi insomma in qualche modo ci si è sentiti Calimero la Francia l'Olanda sì e noi no certo noi abbiamo un debito che gli altri non hanno è evidente però insomma questo forse darà più la spinta ai nostri politici per insistere e chiedere una dilazione sono più morbidi non vogliono fare tutti come Schäuble che diceva adesso non potete buttare le cose sulla Germania ma dall'altro lato non è la questione neanche della Germania che impone qualcosa all'Italia questi sono i patti che sono stati fatti ma l'economia che impone questa cosa se il debito va oltre una certa soglia esplode allora è meglio non arrivarci e allora è meglio fare quelle riforme che non costano niente non far portare fuori dall'Italia i posti di lavoro da aziende di successo italiane ma questo al momento succede ahimè sì fra i mugugni le minacce e i malumori di oggi non c'è stata solo la polemica sulla convenzione per le riforme ce n'è stata un'altra che invece riguarda più l'ambito femminile non a caso infatti sono contenta di avere due due signore questa sera perché Laura Boldrini ha rilasciato un'intervista il presidente della camera Laura Boldrini ha rilasciato un'intervista nella quale a Repubblica nella quale ha denunciato quella che è una vera e propria violenza anche se arriva via web fatta di minacce fatta di fotomontaggi fatta di anche spunti insomma pesanti nei suoi confronti ma non solo e forse il titolo dato all'intervista era abbastanza fuorviante perché sembrava che lei chiedesse una legge che regolamentasse tutto ciò qualche cosa in più io ho avuto l'impressione che in realtà Boldrini volesse semplicemente aprire una riflessione però questa ripeto è una mia impressione ma appunto la polemica poi si è è girata intorno a quest'idea se valga oppure no la pena di comprimere il web di censurarlo di fare altre leggi di intervenire insomma in un modo censorio lei che cosa ne pensa? ma sono d'accordo sul fatto che sia necessario fare una fortissima e grandissima riflessione su quella che è la rete e l'uso del web non solo a partire dalle minacce assolutamente gravissime e condannabili che sono state fatte nei confronti del presidente Boldrini ma anche a partire dall'utilizzo che è stato fatto del web che viene fatto del web ad esempio del Movimento 5 Stelle che ha fatto del web la piattaforma sostanzialmente della sua offerta politica e del rapporto con questa nuova forma di partecipazione democratica da cui i rappresentanti politici del Movimento 5 Stelle dipendono sostanzialmente rispetto alla piattaforma web esistono poi altri tipi di problemi che sono però questa è una cosa diversa nel senso che fra l'altro anche loro sono vittime sono state violate le loro mail è una cosa gravissima fra l'altro oggi è intervenuta finalmente anche la polizia postale in questo senso esatto però noi pensiamo che web e rete siano uno spazio assolutamente libero non censurabile uno spazio in cui si può dire e fare qualsiasi cosa indipendentemente da chi c'è dall'altra parte perché spesso poi ci si nasconde sotto dei nickname quindi non si è identificabili o comunque ci si maschera ecco la riflessione deve essere fatta con grande attenzione perché nella scorsa legislatura sono state proposte anche delle leggi che andavano ad esempio a punire con querela i giornali non tanto i giornali online ma i blog o realtà di questo genere e c'è stata la rivolta della rete allora non si può pensare che esista uno spazio assolutamente privo di regole perché la società però le regole ci sono già nel senso che comunque la diffamazione già viene punita non è che non ci siano esatto però l'uso che ne viene fatto è facile risalire cioè lei dice ci si nasconde dietro nickname ma in realtà è facile risalire a chi c'è dietro sì qualsiasi forse noi no ma insomma quelli che lo sanno fare lo fanno rapidamente però è una questione di come si usa questo spazio possiamo proprio veramente utilizzarlo per dire e scrivere qualunque tipo di cosa indipendentemente da quello che stiamo scrivendo deve veramente esistere uno spazio così ampio noi abbiamo visto ad esempio il cyberbullying l'utilizzo delle reti anche per stalking o per fenomeni appunto di bullismo dobbiamo stare molto attenti ci vuole secondo me una regolamentazione quindi lei interverrebbe anche da un punto di vista educativo innanzitutto educativo innanzitutto cioè sull'uso dello strumento a partire dalle scuole indubbiamente perché deve esserne fatto uno strumento corretto perché se no non diventa uno strumento di libera espressione del proprio pensiero diventa uno strumento di violenza come in questi casi e quindi dobbiamo se ci piace web se ci piace la rete se vogliamo utilizzarlo come strumento di comunicazione dobbiamo anche essere educati ad educarlo e quindi ci vogliono delle regole che temporaneamente ma lei vede anche un deficit legislativo oppure no? sì vedo anche un deficit legislativo Puppato lei che cosa ne pensa? io sono tendenzialmente contraria alla censura ma voglio dire tutti i reati che avete nominato anche ora centenero ne citava alcuni come lo stalking come le minacce la pornografia per esempio sono tutti reati e quindi vanno evidentemente colpiti e allora dovremmo chiederci invece se abbiamo strutture sufficientemente adeguate per riuscire ad intervenire laddove è il caso di intervenire quindi essere pronti essere efficaci garantire chiunque utilizzi quello strumento in modo tale che non possa risultare un'arma diciamo in mano a persone che lo utilizzano in un certo modo e quindi in modo negativo cioè lei sta dicendo più che altro sarebbe bene intervenire magari potenziando quelli che dovrebbero controllare o quelli che dovrebbero intervenire io credo sia utile questo la censura purtroppo come dire ha un grande limite che pur partendo con le migliori intenzioni inevitabilmente si presta purtroppo a limitare la democrazia e quindi è pur vero che l'anarchia non è la migliore delle possibilità diciamo come strumento a disposizione perché se vi è anarchia e non vi è controllo e non vi è certezza del diritto per i cittadini non va bene però è anche vero che è uno strumento di grande democrazia allora importante innanzitutto l'utilizzo mi pare importante che vi sia anche una buona conoscenza di come utilizzare questo strumento senza demonizzarlo e senza renderlo per forza di cose l'unica opportunità di dialogo che vi possa essere tra le umane genti insomma perché anche questa forma quasi dittatoriale no di preminenza diciamo del web può diventare una forma di schiavitù quindi ci vuole sicuramente l'intelligenza e la capacità didattica che la scuola deve mettere in campo per mettere anche in evidenza i rischi di questo ambito perché i rischi ci sono sempre in tutte le cose io credo che dipenda molto da come si possono utilizzare e poi ripeto da quanta efficacia c'è nel riuscire a ridurre i rischi fino al punto di cancellarli con un intervento appunto adeguato scusate nessuna delle due ha fatto riferimento alla questione di genere mentre invece Boldrini ne faceva anche una questione di genere no nel senso che lei diceva questi attacchi non a caso sono avvenuti per una donna che è in politica e ha fatto anche altri esempi di altre persone che per voi non è così ma lei c'ha allora credo che non so prego prego no no Puppato allora facciamo finire lei poi dopo vengo io prego Puppato sì no allora il ragionamento era scivolato solo su web e sulle modalità con cui si debba procedere rispetto a questo settore il caso Boldrini non è un caso io oggi ho fatto tra l'altro un messaggio sia su facebook che su twitter per dire che il problema invece è un problema grave ed è un problema che riguarda il nostro paese riguarda gli omicidi i femminicidi di cui siamo terribilmente come dire ogni giorno in evidenza insomma e quindi questa cosa va assolutamente risolta l'intervista al ministro dell'integrazione Cecil Keng abbiamo sentito ma anche lei è stata vittima di pesanti diciamo che le due figure femminili più importanti e nuove che si sono rappresentate sullo scenario politico italiano e sicuramente sono Cecil Keng e Laura Boldrini voglio dire non è un caso che siano state sottoposte ad una massa di ferocissime critiche arrivando al punto di ipotizzare violenza insomma il caso purtroppo di Borghezio non è l'unico nei confronti di Cecil è un dato gravissimo che evidenzia la nostra difficoltà ad essere pienamente un paese capace di integrare e capace soprattutto di dare valore al mondo femminile insomma anzi ancora oggi lo si considera in molti casi il mondo più debole e che per questo può essere vinto attraverso la forza fisica la violenza verbale quindi attenti bene a quello che sta accadendo perché ancora questo richiede l'attenzione di tutti noi non basterà quello che stiamo già cercando di fare anche in Senato arriverà credo anche la Camera dei Deputati che è la convenzione appunto di Istanbul che verrà ad avere l'applicazione appunto di queste norme che rendano possibile questa convenzione e renderla quindi efficace per il nostro paese ma molto di più sarà quello che dobbiamo fare in termini di educazione in termini di potenziamento dei centri antiviolenza leggevo oggi per esempio che ne abbiamo poco meno di 500 in Italia a fronte di una indicazione europea che dovrebbe darne almeno 10 volte tanto e tutti sottofinanziati mi scusi la interrompo perché sennò devo dare la pubblicità e invece vorremmo sentire di volontariato poco altro è un discorso che è estremamente importante e che a me appassiona moltissimo parto da una prima considerazione che è quello ma l'avete sentita anche sulla vostra pelle io l'ho provata sulla mia pelle il fatto di essere una donna in politica e del fatto di il potere io dico sempre il potere è maschile è una donna che io sono stata coordinatrice provinciale del mio partito quindi ho toccato non l'aspetto tecnico della politica e delle politiche ma proprio la politica la gestione del potere tra l'altro lei ha iniziato da subito in Forza Italia sì ma questa è stata un'esperienza successiva e una donna che tocca il potere tocca un campo che viene ritenuto di esclusiva competenza maschile e quindi soprattutto se poi le donne agiscono con maggiore trasparenza agiscono con rispetto di valori e di regole ben precise nella maggior parte dei casi ovviamente noi abbiamo meno esempi di corruzioni tra le donne che non tra gli uomini questa è una cosa molto importante e quindi chiaramente diventano soprattutto se poi mettono in pratica delle scelte che sono poco condividese da un modo di far politica standardizzato possiamo così definirlo sono soggette a una sorta di messa da parte sostanzialmente di violenza come nel caso della Boldrini detta questa cosa diciamo che c'è un campo molto complesso la nostra la storia delle donne nel nostro paese è stata molto molto complessa noi pensiamo io prima ricordavo Nilde Jotti a quello che ha dato quello che ha fatto per la figura femminile in Italia che è stato straordinario pensiamo alla riforma del diritto di famiglia del 1975 quindi noi siamo arrivate stiamo arrivando adesso a quello che sono la gestione del potere in politica e dall'altra parte la gestione come manager nelle imprese e quindi ci troviamo di fronte a delle difficoltà enorme sicuramente ad una maggiore forma di violenza rispetto a quelli che sono gli uomini allora la interrompo perché già ci fanno dei segnali feroci altro a proposito di potere abbiamo la pubblicità ripartiamo poi invece di nuovo con Molea perché gli ultimi cinque minuti li voglio dedicare a capire come il suo partito ma poi anche parleremo rapidissimamente del PD cercheranno di riorganizzarsi a fra poco più niente non riusciamo a stare zitti noi durante la pubblicità chiacchieriamo e continuiamo a chiacchierare ovviamente di quello di cui vi abbiamo appena reso conto mentre siamo in onda e in questo caso l'onorevole Elena Centembre diceva non ho parlato delle donne del PDL che sono considerate meno donne non meno donne semmai da certa diciamo così critica più donne ma nel senso deleterio del termine cioè ma guarda io non voglio non voglio tornare non voglio tornare su un'espressione che ha utilizzato l'ex segretario appunto Bersani non voglio ritornare però è stato abbastanza grave quello che lui ha detto non nei confronti delle donne del PDL nei confronti delle donne in generale perché ha posto in atto una categoria per cui esistono delle donne che sono più donne cioè quelle del PD e delle donne che sono meno autenticamente donne cioè quelle del PDL e credo che questo sia offensivo nei confronti delle donne esistono le donne esistono donne che si rapportano rispetto alla realtà in modo diverso e fanno scelte diverse insomma quindi è stata una cosa che io non ho apprezzato in generale verso la donna non dell'appartenenza lei dice ogni donna ha diritto di fare come le pare tutte siamo donne non esistono donne non esistono donne più o meno autentiche ma io credo che abbia ragione perché anche questa forma di selezione in fondo nasce da un ipercriticismo nei confronti di questo mondo insomma e quello che si diceva prima cioè la difficoltà per qualsiasi forma di potere di accettare che nascano crescano e diventino sempre più importanti figure che in qualche modo possono scalzarli da quella realtà obiettivamente non piace a nessuno e questa è la ragione per cui ancora oggi facciamo tanta fatica devo anche ricordare un particolare conta poco ma perché di solito non mi piace parlare di me stessa ma è vero che mi è capitato e l'ho quasi rimosso non ho voluto raccontarlo prima mi è capitato nel corso dell'ultimo anno in particolare di venire molestata proprio attraverso le mail web eccetera tanto è vero che mi sono rivolta ai carabinieri da una figura che non ho mai avuto il dispiacere di conoscere e che è un mio concittadino il quale si è messo in testa di rovinarmi la vita senza che ve ne fosse una ragione evidente che è un vero e proprio storico ma semplicemente screditando sì 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 e quindi c'è questa brutta abitudine a considerare a un certo punto vittime destinare vittime insomma delle figure che sono cresciute molto dal punto di vista comunicativo visivo che ne so allora noi intanto aspettiamo ancora di avere non solo il presidente della repubblica ma un presidente del consiglio donna in Germania su questo siete decisamente avanti abbiamo due tedeschi dell'est e due protestanti un pastore una fila di pastore sì ecco quindi da questo allora volevo chiudere abbiamo davvero un minuto un minuto accipicchia allora lui si dimentica sempre di me no non mi dimentico però questa era una sera in cui c'erano parecchie polemiche allora mi dica scelta civica che viene chiamata brutalmente ormai da qualcuno addirittura sciolta civica perché vi state squagliando come neve al sole chi l'ha detto così dicono i maligni ci dice che fine fa i maligni esistono esistono in rete esistono per i corridoi esistono tutte le parti anche questo è un modo per fare della violenza attraverso la rete ma non ci stiamo sciogliendo io credo che scelta civica passata questa tempesta perché di questo si tratta 50 giorni per organizzare un partito fare campagna elettorale presentarsi poi alle urne uscire dalle urne come siamo usciti cominciare a far politica non abbia avuto il tempo durante questo percorso così veloce di fare un attimo di analisi analisi interna e siamo una forza politica che è composta da provenienze più strane questo concedetevelo proprio per questo credo che sia necessario un attimo fermarsi adesso ragionare e insieme trovare la via maestra che non vuol dire sciogliersi ma vuol dire con grande democrazia con grande libertà ma con grande senso di responsabilità decidere da che parte in che modo vogliamo andare e fermo restando che per noi la via maestra rimane quella che ci ha messo insieme sono le cose che hanno fatto sì che nascesse Cetecinica quindi per lei Puppato in 30 secondi quindi chiudo mi permetta i maligni dicano pure quello che vogliono no no ma poi vedremo vedremo alla prova dei fatti probabilmente si modificherà vedremo alla prova dei fatti allora lei preferisce un reggente o un segretario beh tutti le risponderebbero un segretario ovviamente che dovrebbe dare anche l'indirizzo politico E come lo vuole questo segretario? Chi vuole i reggenti è soltanto perché pensa che obiettivamente il tempo che abbiamo a disposizione è talmente poco che il rischio è di non fare una buona scelta E come lo vorrebbe questo segretario? Ce l'ha già in mente? Beh, lo vorrei magari donna stavolta, via Va bene, allora, gliela concedo questa Linea ai colleghi del telegiornale sportivo, Omnibus della mattina, domani mattina c'è Noi invece come sapete ci fermiamo il sabato e la domenica e ritorniamo lunedì sera Buonanotte e buon weekend Buonanotte